In un anno arriva la Camera dei Deputati per lottare ancora una volta contro gli stereotipi di genere. Eh sì, è una cosa che parte da molto lontano, parte da un impatto scioccante che molti anni fa ho avuto nel mondo dell'auto proprio per questo modo poco rispettoso e decisamente denigratorio nel rapporto donne ed automobili, dai modi di dire alle immagini. Da subito ci siamo dati qui al museo una, come dire, un motto che è stato quello di dire donne, motori, gioie e basta. E poi negli ultimi anni abbiamo reso concreta questa nostra attenzione al mondo femminile e una richiesta di rispetto attraverso un progetto fotografico. Il titolo è proprio questo, donne, motori, gioie e basta, il sottotitolo è eleganza di donne e automobili. Perché? Perché si può rappresentare una donna a bordo di un'auto in maniera elegante e rispettuosa e lo fanno agli scatti della fotografa Camilla Albertini. Siamo alla seconda edizione del progetto fotografico, stiamo già preparando la terza e attraverso questo progetto nariamo anche di come le donne siano in grado di ricoprire qualsiasi tipo di posizione professionale. Tanto che la scelta ricade anche su donne del territorio, molto spesso, ma anche no, che stanno facendo qualche cosa di importante e di rilevante. Possiamo ad esempio pensare, mi viene in mente, a Anna Gervasoni, proprio appena nominata rettrice dell'Università Liu, che è una delle donne protagoniste della seconda edizione del progetto fotografico. Ma abbiamo anche rappresentanti di tantissimi altri mondi, dall'imprenditoria alla libera professione, dal mondo della politica, quello dello sport, dello spettacolo e così via.